Ciao a tutti e benvenuti su My Football Jersey. Io sono Stefano e oggi vi presento la terza maglia del Chelsea per la stagione 21-22 nella versione player o authentic, quella cioè indossata dai calciatori. Lo stile della terza maglia è ispirato alla città di Londra e in particolare alla sua energia giovanile e al mondo della moda. Per il progetto il gigante statunitense Nike ha lavorato con una serie di fan del Chelsea che operano nel settore del fashion. I soprabiti come caposaldo della moda streetwear londinese sono diventati un tema di ispirazione, iniettando stampe colori audaci come quelli sinonimo del marchio ACD di Nike, in una collezione che parla davvero del tessuto culturale diversificato di Londra e della cultura di Chelsea. Il verde e il nero sono stati a lungo associati ai capi spalla Nike di tendenza. Il cremisi aggiunge vivacità e quel tocco di colore riflette l'energia giovanile del club. Il logo Pride of London è presente anche all'interno della maglia e ricorda i valori e lo status del club nella capitale. La terza maglia del Chelsea realizzata con tessuto in poliestere riciclato al 100% realizzato da bottiglie di plastica riciclate. Ciò consente al kit di fornire le massime prestazioni riducendo l'impatto sull'ambiente. Wow! La maglia è bellissima! Nella mia classifica questa prende 5 stelle. Devo dirvi che dal vivo è spettacolare! Peraltro fatta molto ma molto bene. Io veramente faccio fatica a credere che questa maglia costi soltanto 15 dollari. Vi invito a guardare in descrizione per trovare il link per poterla acquistare. Ora se il video vi è piaciuto vi prego di mettere un like e di iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima! Ciao! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg. Quella che vedete è una taglia large della versione player o authentic, quella indossata dai calciatori.